Anche quello che vi sembra scuro. La voce interiore, attraverso Roberta S. guide. Bentrovati a voi tutti. Siete immersi nella luce e nella luce i vostri sguardi sembrano perdersi, spiazzati da tutto ciò che può comparire davanti a voi. Quindi distinguete quello che la luce vi fa vedere da un certo punto di vista da quello che la stessa luce vi fa vedere da un altro punto di vista. E così nascono le vostre confusioni e le vostre distinzioni, credendo quindi che la luce sia solo di qualcosa in particolare e non possa avvolgere tutto quanto, anche quello che vi sembra scuro. Allora vi diciamo che tutto quello che vedete è luce, che anche questa giornata che vi sembra buia è in realtà fonte luminosa per la vostra esistenza, un continuo espandersi di energia che vi raggiunge e vi crea in ogni istante. Date per scontata la vostra creazione e la vostra esistenza, ma noi vi diciamo guardatela con un altro occhio, guardatela con una maggiore attenzione, perché vi assicuriamo che ogni vostro momento si rinnova con una creazione diversa, siete voi stessi diversi in ogni vostro momento della giornata, dell'esistenza vostra tutta. Il vostro non riuscire a vedervi diversi vi rende vittime della vostra mente più schematica. Il vostro credere che alcuni eventi si ripetano e che alcune sensazioni o emozioni appartengano al vostro carattere vi limita, come limita quel vostro sguardo immerso nella luce, confuso, per non saper distinguere la luce dalla luce stessa, per non saper riconoscere quindi che tutto fa parte di una carica positiva, fa parte dell'energia vitale che vi alimenta e vi infonde quel calore di cui avete bisogno.